Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati a un nuovo vlog, io nel frattempo sto facendo, e si vede, sì, praticamente sto facendo sì, ho quello di mia madre grande, che si chiama Starlight, e, aspettate, no, ve lo faccio vedere così che è più facile, e quest'altro, si vede, sì, che si chiama Anna Fede 1967, a parte quello nulla, praticamente sto facendo la terza stagione che sto cercando di finire, di finirle la, la, diciamo la modalità normale, perché poi ci sarà quella difficile, però almeno già una parte la volevo completare, e sto giocando sempre a Spirak Nights, che da, praticamente adesso devo scegliere che animaletto prendere, c'è il drago, il, il gatto, oppure c'è quello a forma di fantasma, che adesso lo sto per fare, per esempio quello da drago, c'è quello da gatto, il fantasma, e poi vabbè altre cose, adesso facciamo per esempio quella del, del draghetto, però io scelgo normalmente solo il draghetto, perché è più, cioè sono più abituata con quello, poi a parte quello niente, e, vabbè, a parte quel, a parte il fatto che giovedì non abbiamo fatto niente di che abbiamo stato creato dei portachiavi per, per il fatto che praticamente c'è il mercatino di San Nicola a Piccapietra, e sì che è una via vicino a via Roma, praticamente vicino alla nostra scuola, oltre quello nulla, io vi saluto, ci vediamo tra poco con i video di oggi, che come vedete sono un po' impegnata, ciao! Ciao!